C'eravamo lasciati prima della pubblicità scoprendo che Francesca è una grande scrittrice e il tuo ultimo romanzo si chiama Mi sono innamorato di tuo marito che è la canzone di Maggioglio Ispirato, il titolo è ispirato E mi sono innamorato ma di tuo marito Signor Flavio, iniziamo subito di alto livello Infatti salutiamo Maggioglio Stavo arrivando qua pensando, abbiamo resistito tre puntate Va bene, primo sondaggio, primo calcio d'inizio vengono Capofamiglia 1, Capofamiglia 2